Nonostante le numerose sollecitazioni, Chieti Solidale non ha confermato il servizio di trasporto per gli utenti che frequentano il centro di urno dell'Anfas di Chieti, che è stata costretta a diffidare l'azienda che eroga servizi sociali, socioassistenziali, sociosanitari e socioeducativi in favore di famiglie e individui in condizioni di bisogno. La presidente Erika Toto spiega che è stato necessario arrivare a questo atto estremo perché nonostante molteplici sollecitazioni a riguardo non è arrivata alcuna conferma del servizio che l'Anfas garantisce da più di 10 anni, che è inserito nel piano distrettuale sociale ed espressamente rivolto a persone diversamente abili che necessitano di trasporto dalle rispettive abitazioni o dalle scuole nei centri riabilitativi e diurni come Anfas Rosa Blu. I mezzi che vediamo nelle immagini riprese da Alberto Capo sono fermi da due anni. A quanti utenti non viene più garantito il trasporto? 19 utenti. Sono 19 utenti che rimangono a casa perché appunto avanti con l'età i genitori non hanno la possibilità di poter trasportare i ragazzi perché impossibilitati e quindi ci levano il diritto a una vita inclusiva. Quindi questi ragazzi nonostante la pandemia, nonostante tutto il periodo straordinario si ritrovano ancora a casa a vedere quattro mura. Di quale utenza parliamo? Noi parliamo dell'utenza che frequenta il centro diurno Anfas, fondazione Anfas Rosa Blu. Però noi come fondazione tuteliamo a 360 gradi tutti i diritti delle persone con disabilità della cittadinanza di Chieti. Noi abbracciamo tutta la disabilità, tutte le persone che hanno problemi. Oltre alla diffida vuole lanciare un appello a Chieti Solidale? Sì, io chiedo a Chieti Solidale di ripristinare il prima possibile in maniera molto pacifica il servizio del trasporto.